ciao bambini, giochiamo con play doy, con play doy, pizza party, si fa la pizza, poi in realtà possiamo fare un sacco di cose possiamo fare anche il totodoncino, secondo me bisogna avere più di tre anni l'hai letto? no, più di tre, si, no che non l'ho letto, avevi la mano qua, però ho detto hai ragione, più di tre è della Hasbro, all'interno abbiamo cinque barattolini di colore, abbiamo la pizza, abbiamo gli stampini, il cartone per la pizza, gli stampini e poi abbiamo anche questo per fare gli spaghetti, si oppure per fare la mozzarella da mettere sopra la pizza apriamo, dai, dai, io voglio fare una cappuccina, io invece voglio fare, no io anzi una marinara, a me piace molto la marinara anche a me, invece io voglio fare, come si dice, i spaghetti, i colori sono questi, abbiamo il verde, il rosso, il bianco, il giallo e il marroncino ma anche la palletta per... si, io li fio già eh, senza permesso, tanto io gli spaghetti li faccio già, io... i penzalli, gli spaghetti te, ok, io posso fare un po' di verdurine? si, si questo quello, ma non si apre dammi ce l'ho fatta, ce l'ho fatta ecco io di solito prima lo stallo un po' si come una pireta ce l'hai il piattino a cima? eeeh eccolo ah no, ma questi qui sono anche stampini ti conviene fare prima gli spaghetti poi dopo li mettiamo nel piatto qua poi lo chiudi evviva, evviva io faccio... guarda beh, dobbiamo usare gli stampini adesso, intanto li prepari gli spaghetti dopo li mettiamo no, non so faccio una petta di piccola ok, io sto preparando dei broccoletti ahhh con il verde adesso tagliamo? si se fate così mia mamma quando l'aiuta a fare la pizza dice sempre che lo spessore della ma l'impasto non deve mai essere troppo uguale anche a me infatti piaccio più sottile l'impasto proviene come quella che ho io a scuola in pratica è una focaccia si ora mi servirebbe da nuovo mi servirebbero mi servirebbe ah io faccio tutto da capo perchè un pasticcio ok, allora io ho fatto i broccoli adesso faccio io ci faccio anche la crosta preparo un po' che arma eh sembrano più i passatelli quelli con gli spaghetti buoni i passatelli asciutti a me piacciono molto i broccoli anche a me adesso faccio un po' di pancetta ok? si io invece faccio così perchè così eh bravo si getta a me 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 io con gli fai mi a me 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 ecco io ho già fatto la base della pizza posso prenderti un po' di marrone per fare i funghetti? grazie grazie la mano serve un po' di bianco si per cosa? un po' di verde a qualcuno le passa un pezzettino di rosso? usa sì nero da adesso pisto tu l'esчитaw un po' di me sei Sì! Spaghettoni! Adesso faccio un peperoncino Un po' di rosso Sì! Un po' di tortino Sì! Finito gli spaghetti! Tieni in piatto! Mi serve Grazie Ecco, adesso la città Tutti Ecco Tutti Tutti Ho fatto un sacco Un piatto Un piatto è quasi furto Non riesco a mettere un pomodoro Un pomodoro? Sì! Adesso metto un po' di foglie Di foglie? Sì, foglie! Intende il Prezzemolo Ah! Visto che non sa il nome Faccio Fatto! Adesso faccio un po' di foglie Ok! Eh! Sono dietro il piatto Vuoi prendere i miei? Ok! Poi adesso Il giallo le hai usate tutte, vero? Sì! Ma non ho fatto Faccio un po' di amorezzo Con un po' di pazzo È proprio difficile fare il pomodoro Faccio una pomodoro Faccio una pomodoro Una volta che l'ho fatto ci volevo che mi si appiccchiava un pochino al palo Un pochino al palo Un pochino al palo Un pochino al palo E' un pochino al palo Poi a me mi serverebbe un secondo questo Sì Per l'aglio Mozzarella Ah! Ho capito che fosse di la marinara Ah sì, aveva per l'aglio Oh, io qua sto facendo un sacco di cose per condire Non le vuole nessuno? Io? Ah! Io ho aggiunto un po' di pizzeria Ecco Ecco Un pochino Ho deciso Pietro, la facciamo Mario e Monti la tua Com'è? E anche... Eh! Con la pancetta, i gamberetti, i funghi, i broccoli, il piperoncino Il funghi no! Perché? Beh, io sono allergica ma li ho fatti E dai Con il piperoncino che ti voglio Eh! Però neanche i broccoli Dai, sono buoni, mangio i broccoli Io mangio i broccoli bianchi A me non mi piace Nulla mozzarella, non broccoli, non i funghi Ah ma allora è difficile eh È difficile Sì Che cosa? Che cosa? Anche se sembri La mozzarella non è mozzarella È aglio È aglio Sì L'avete usato tutti? A me mi serve un po' di bianco Qua Sì Ah ecco il bianco Sì Pronto Eeeh Questo cos'è? Gamberetti, pancetta La mia è pronta? La mia è pronta? Ok Vuoi i gamberetti? Funghi? Eh ma quello è per la pizza L'abbiamo fatta da mangiare Abbiamo preparato questi spaghetti È pronto, guardate Eh allora lì c'è la pizza Con l'aglio, il peperoncino piccante, la pancetta Qua degli spaghetti con Questa cos'è? Mozzarella Ah con la mozzarella, la pancetta Ah non ho finito I funghi Prezzemolo Qui ha messo anche il prezzemolo A me mi serve un prezzemolo Il prezzemolo Io qua ho il basilico se vuoi Poi ho preparato i gamberetti La pancetta al melancholy I broccoli Che non vuole nessuno Funghetti Eeeh Faccio finta che sia un Insalata Va bene Ed è tutto pronto E già Chi vuole mangiare con noi? Io Oh Ci abbiamo messo anche il sugo sopra Perfetto Abbiamo preparato tutto Abbiamo sporcato tutto il tavolo E adesso vi salutiamo Ciao 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 Ciao